Il padron Corrado un inizio così non se lo aspettava o forse sì? No, ero fiducioso, sapevamo che avevamo lavorato bene in questa fase di preparazione i test precampionati erano stati comunque di buon livello, ero fiducioso Una settimana lunghissima, una settimana intensa di incontri, tanti incontri questura comune Alla fine questa apertura a 200 posti è soddisfatto? Come inizio direi di sì, dopo un anno di attese siamo riusciti a sbloccare quantomeno per 200 persone in attesa che si abbia l'agibilità per 2000 spettatori quindi direi che è già un passo avanti, ne approfitto per ringraziare l'amministrazione e per ringraziare la questura che davvero si sono impegnati per risolvere il problema Cosa si devono aspettare i tifosi nelle prossime gare casalinghe della battipagliese? Che io sappia, per qualche partita ci sarà il consenso per 200 spettatori Ci hanno detto che in un paio di mesi dovremmo risolvere per l'agibilità piena Torniamo al calcio, domenica si va a Campagna, è la seconda giornata però è un big match? Eh sì, so che il Campagna ha allestito un'ottima squadra e sarà sicuramente un match duro Grazie 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 Grazie